carissimi amici e amici giunti alla puntata numero 26 stiamo trattando della virtù cardinale della prudenza probabilmente questa sera riusciremo a completare a terminare la trattazione di questa importantissima virtù abbiamo già avuto modo di evidenziarne e contemplarne la bellezza di evidenziare come questa è stata definita la origa delle virtù perché si porta dietro tutto il carro delle virtù perché se non si capisce bene quello che si deve fare non si possono poi calibrare gli atti di nessuna virtù bene mentre ci fondiamo un po con la divina volontà quindi sperando che ci accompagni in quest'ultimo tratto di questo percorso ricordiamo che stiamo seguendo ecco nell'ultima parte della trattazione che quella un pochino sistematica sempre gli iscritti del grande di sant'ommaso d'aquino che le sezioni della somma teologia in particolare in cui parla di questa virtù dal momento che le lezioni che ha dato sia sulle virtù che sui vizi sono parte che oltremodo esaustive ma a mio avviso al momento insuperate non so se insuperabili ma certamente almeno per quanto sono le mie conoscenze al momento non superate e tra l'altro affidabilissime dal punto di vista che a noi almeno a me più interessa che quello insomma della dell'orizzonte cattolico quindi proseguiamo il nostro viaggio la volta scorsa abbiamo scandagliato ecco le otto parti della della prudenza ora ci resta da vedere qual è il dono dello spirito abbastanza facile intuitivo da capire che rafforza e quindi soprannaturalizza ulteriormente la prudenza sant'ommaso spiega anche qual è la beatitudine che accompagna questa virtù e poi individua cinque vizi opposti direttamente opposti ma anche cinque virtù no 5 virtù scusate 5 5 vizi che sono vizi ma che presentano dei punti di contatto con la prudenza quindi si tratta di vizi opposti alla prudenza che però le assomigliano questo è un campo molto 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 importante se posso permettermi una digressione introduttoria al riguardo a scambiare lucciole per lanterne e vizi per virtù è una cosa estremamente facile e su questo dobbiamo sempre anzitutto pregare al signore che non ci permetta non ci lasci cadere nell'inganno ecco ma questo si combatte anche con una buona formazione è facilissimo scambiare lucciole per lanterne cioè pensare che sia virtù ciò che è un vizio e a volte pure viceversa faccio subito alcuni esempi li ho già fatti in altre uscite no macroscopici poi vedremo quelli specifici della prudenza il tirchio il taccagno non si dentro la sua testa non si percepisce come tirchio come taccagno ma si percepisce come persona parsimoniosa che amministra bene i soldi perché i soldi non si sperperano bisogna farne un uso buono capiamo no il temerario quindi colui che va oltre nell'esercizio della virtù cardinale della fortezza esagerando generalmente si percepisce semplicemente come una persona coraggiosa e come una persona forte che dà pane al pane il vino al vino che non ha paura che sfida tranquillamente tutto e tutti in nome di ma la temerarietà quindi l'eccesso nella virtù della fortezza è un vizio è uno dei vizi opposti come vedremo a suo tempo la cortezza non è una virtù l'avaro dirà sapete quello che c'era scritto dentro la sala da pranzo di molierno dell'avaro di moliere di arpagone si mangia per vivere ma non si vive per mangiare attenzione che si mangia per vivere non si vivere per mangiare sta scritto anche nei monasteri solo che la scritta di questa di questa scritta nei monasteri e virtù perché nei monasteri si sta questa scritta perché si pratica la temperanza nella forma tra l'altro sovente del digiuno ma per l'avaro spendere qualche soldo in più per il mangiare è andare a toccare il portafoglio quindi quella stessa azione diventa vizio questo è un campo molto delicato campo analogo avviene nella confusione che si può fare non di rado tra la coscienza che deve essere sempre seguite che il primo vigaro di cristo e noi è però la volontà umana e la volontà umana e stasera ho fatto un tweet molto bello tratto da da un classico insomma della spiritualità cattolica diciamo così conservatrice che aiota unum di romano merio sono un testo molto difficile che romano merio c'è un italiano che dire ampolloso e fargli un complimento insomma dei termini estremamente ricercati ed eruditi che insomma se una persona non c'è una cultura pazzesca per leggere quel libro deve averci vocabolario edizionale d'italiano in mano che non capisce una montagna dei termini va sicuro che metto in difficoltà anche me insomma quindi sono abbastanza notevoli dove però diceva parlando per esempio dell'obbedienza che l'obbedienza assoluta è proprio a dei regimi dittatoriali delle forme dittatoriali no perché l'obbedienza assoluta di per sé si deve soltanto a dio solo che anche questo è un campo molto minato quindi è molto difficile d'accordo perché non si deve obbedienza ad un ordine che sia oggettivamente palesemente ingiusto non ad una cosa che non ti piace da un punto di vista soggettivo e che ti come dire per cui dargli retta e assecondarla sarebbe complicato quindi capiamo no questi sono campi quindi la distinzione tra la coscienza oppure una persona che dice io in coscienza faccio questa cosa non ci vedo niente di male pensiamo per esempio il macello che successe ormai è un macello datato quando uscì l'umane vite e le persone che si sentivano legittimate a dire ah ma io in coscienza uso tranquillamente i contraccettivi ho fatto il terzo figlio non posso mica fare sfornare una mamma snata di figli quindi io uso i contraccettivi non c'è niente di male anche poi queste sono idee personali del papa e vado tranquillamente a farmi la comunione quindi non c'è mai la coscienza non è mai vera quando va contro la legge oggettiva di dio o la legge morale di dio come autenticamente interpretata dal magistero della chiesa quella non è più coscienza quella volontà umana quindi questo per dire stasera affronteremo questo questo campo no come si come come si esce da queste trappole ci sono solo due sistemi che conosco primo la buona formazione e secondo la preghiera quanti sono i salmi che si invoca dal signore la luce dammi la savienza dammi l'intelletto fammi conoscere i tuoi voleri eccetera eccetera no perché l'inganno è in agguato è facile d'accordo quindi la formazione la preghiera ma un prerequisito è che se il tuo cuore vuole seguire e servire il signore fare profondamente la sua volontà non ti mancheranno tutti gli aiuti tutte le grazie tutte le luci se invece tu non vuoi fare questo profondamente non vuoi fare altro chiaro che le luci potranno difettare spero di essere stato chiaro terminata questa digressione andiamo adesso all'argomento di digressione non è tanto digressione insomma un po' un'introduzione anche di quello che parleremo allora è chiaro che la prudenza quale sarà il dono dello spirito santo che le corrisponde è chiaro che sarà il consiglio no tra l'altro domani 26 aprile è ricorda la festa del di di maria madre del buon consiglio ecco la madonna era madre del buon consiglio e appunto questo bellissimo dono dello spirito santo no che cos'è il consiglio è il coronamento soprannaturale della virtù della prudenza quindi è quella aiuto dall'alto nel discernimento quindi nel bel deliberare in ordine al fine considerando bene oltre a tutte quante le altre cose ciò che dio nel cuore suggerisce ciò che dio ci ispira come si dice che è una cosa assolutamente fondamentale basilare otteniamo presente che noi doni dello spirito santo li abbiamo ricevuti il giorno della cresima non è un gioco per cui se noi ci manteniamo in grazia di dio i sette doni dello spirito per chi è cresimato questo lo ricordi ce l'abbiamo già quindi si tratta semplicemente di dar loro la possibilità di esprimersi e di esplicarsi dentro la nostra anima cosa che si fa custodendo la grazia e evidentemente sempre vivendo una profonda vita personale di preghiera e più in generale interiore o beatitudine che corrisponde a questa virtù secondo santo maso è beati misericordiosi perché troveranno misericordia evidentemente comprendere che la misericordia è sempre la via migliore sempre per quanto riguarda il nostro rapporto verso il prossimo non ci sbagliamo mai se optiamo per la misericordia pensiamo per esempio tante situazioni brutte difficili dolorose che viviamo anche nella nostra amata casa e famiglia che è la chiesa dinanzi a tante cose non ci si può fare un granché che cosa si può sempre fare per esempio soffrire e offrire le nostre sofferenze ma attenzione se io vedo una cosa che non funziona o anche un peccato commesso da un battezzato o da un ministro ahimè se io offro al signore la mia sofferenza di un signore mi dispiace tanto vedere questa cosa ci soffro e te la offro questa sofferenza che provo non pensiamo che questa sia una cosa di poco conto affatto ma questa è la quintessenza della misericordia perché la misericordia consiste vedo una cosa brutta nel prossimo piangete con quelli che sono nel pianto anche se quello non piange piango io per lui questo si può fare sempre non c'è nessuna controindicazione anzi è una cosa molto gradita al signore ci trattano male ci perseguitano ci riempiono di maldicenze di insulti di calunnie ci umiliano non riconoscono le nostre cose buone qual è l'atteggiamento migliore perdonare perdonare sempre subito tutto e tutti è questa un'opera di misericordia perché perdonare le offese è un'opera di misericordia quindi la prudenza che è appunto la retta ragione delle cose da farsi quindi anche la scelta della cosa migliore da fare nelle singole circostanze consente sempre se qualcuno ti chiede un aiuto e tu puoi darglielo qual è la cosa migliore quindi la retta ragione della cosa da farsi daglielo c'ha fame dagli da mangiare c'ha sere dagli da bere è nudo vestilo ha bisogno di una parola buona con consolare gli afflitti di un momento di o semplicemente di essere ascoltato in uno sfogo fallo ecco perché sant'ommaso affianca alla virtù della prudenza la beatitudine della misericordia adesso andiamo a vedere i vizi opposti i vizi opposti sono cinque c'è un vizio direttamente opposto alla prudenza che è questo lo sappiamo anche dal vocabolario comune l'imprudenza e poi ci sono dei vizi opposti ricordate che la volta scorsa oltre alla prudenza e alle sue parti abbiamo visto anche alcune virtù complementari alla prudenza connesse che erano l'eubulia, la siunesis e la gnome ecco tra i vizi opposti alla prudenza oltre all'imprudenza c'è la precipitazione che è direttamente opposto all'eubulia quindi alla ricordiamo che l'eubulia eubulomai quindi è la buona considerazione quindi è la capacità di ben deliberare la precipitazione, attenzione poi l'inconsiderazione che agisce in modo sconsiderato e questo è direttamente opposto alla siunesis e alla gnome l'incostanza che è un vizio opposto al ben governare, al ben comandare assoluto se stessi oltre che il prossimo e poi la negligenza che è direttamente opposto alla sollecitudine allora cominciamo dall'imprudenza l'imprudenza quante sono le imprudenze che commettiamo nella vita si ha l'imprudenza tutte quante le volte in cui si agisce senza ben ponderare ponderare calibrare quello che dobbiamo fare il riferimento al ben oggettivo in sé ma anche attenzione alle conseguenze delle nostre azioni facciamo come al solito subito qualche esempio è molto dolorosamente diffuso sapete che un povero prete nella sua vita sente tante cose bruttarelle una di esse sono tanti 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 matrimoni andati come si dice in crisi o peggio ancora andati a finire a schifio dicono della parte più bassa dello stivale allora per quanto ho potuto constatare la stragrandissima maggioranza di essi non mi azzardo a fare percentuali erano matrimoni che sarebbe stato opportuno non celebrarli imprudenze se tu durante il tempo del fidanzamento cominci a vedere delle cose che non funzionano dei comportamenti che ti allarmano o che manifestano come dire una divergenza quindi una lontananza difficilmente riconciliabile a volte anche che posso dire una totale assenza di dimensione di fede soprannaturale religiosa ma che ti sposi a fa? la prudenza consiste nel ponderare se io mi imbarco in un matrimonio questo poi per sempre bene devo prendere la responsabilità di questi atti te lo ordina qualche medico ma quali sono i processi mentali che partono per cui si fanno queste cose? alcuni sono potenti a sballare per esempio ah ma tanto dopo dopo il matrimonio le cose andranno meglio esperienza universale che dopo il matrimonio le cose non vanno meglio perché le cose che non vanno vengono acuite dalla convivenza continua quotidiana H24 poi c'è un altro parametro da tenere sempre ben presente che ordinariamente purtroppo purtroppo le persone non cambiano in meglio ma peggiorano a meno che questo dipende dal fatto che noi non possiamo mai dimenticare c'è il peccato originale in noi per cui se una persona non ha delle forti motivazioni ha interiorizzato bene alcune cose e quindi ci avrà poi tanta voglia di lavorare su se stessi in maniera impegnativa perché si può cambiare certamente è sempre possibile cambiare ma cambiare è un'operazione laboriosa dolorosa tu non te la puoi aspettare come una cosa ovvia e normale è un'imprudenza allora se ti imbarchi in una cosa di questo genere imprudentemente ti troverai dinanzi a delle situazioni sgradevoli ma dopo te ne devi prendere la responsabilità non puoi ho sbagliato buttiamo tutto quanto per aria imprudenza le regole le regole del ben operare non bisogna mai disprezzarle mai ponderare le conseguenze delle nostre azioni lettere di san paolo per esempio no cioè io devo per quanto possibile prima di fare specialmente alcune azioni come dire forti o impegnative io devo ponderare le conseguenze delle mie azioni cioè ma soltanto le conseguenze che possano derivarne a me in quanto persona ma anche al prossimo in termini per esempio di edificazione del prossimo in termini di possibile scandalo del prossimo questo noi dobbiamo pensarci cioè facciamo un esempio un genitore non può agire in maniera sconsiderata e imprudente nei confronti di un figlio un genitore non si può permettere oggi meno che mai davanti a un figlio di cioè siamo se un padre bestemmia davanti a un figlio ma come fa poi se sentirà un figlio bestemmiare a dirgli non devi bestemmiare se i genitori usano il turpiloquio ma come faranno poi a dire al figlio non dire le parolacce se tu a tuo figlio lo lasci con un televisore collegato alla presa della scuola io sono sempre molto molto chiaro gli esempi sono sempre collegato in camera ma come come puoi pretendere che sto poro ragazzino crescerà sano e soprattutto puro se c'ha già in tenere da un computer o uno smartphone che può usare in maniera completamente autonoma con quello che c'è adesso in giro ma come fai io non sto attenzione dicendo che questi argomenti non si tratti di cose molto molto delicate e molto difficili io convivo con le mie difficoltà pastorali di sacerdote che si trova evidentemente come oggi tutti quanti noi preti in un ambiente sfavorevole quindi ma veramente pensando al compito grave dei genitori delle volte dico è andata meglio a me perché sì certamente ci sono tante difficoltà ma veramente oggi con un genitore aducare un figlio è proprio un'impresa io ne sono consapevole interna all'otto però se ci sono delle cioè noi non possiamo cioè riflettere bene su questa virtù significa ricordarci che noi dobbiamo fare attenzione alle nostre scelte la stragrande maggioranza degli uomini ecco qua andiamo a vedere il secondo il terzo vizio opposto la precipitazione l'inconsiderazione l'essere sconsiderati la mancanza di rettitudine la definisce San Tommaso nel considerare giudicare come vere e da farsi le cose conosciute come tali l'essere sconsiderati comporta delle conseguenze disastrose ricadono tutte quante addosso le azioni sconsiderate tutte tutte addosso ti presentano tutte quante il conto poi il conto lo devi pagare capiamo meglio pensarci un pochino di più ad una cosa o meglio fino a quando tu non sei moralmente certo che una cosa è da farsi che ci hai pensato che ci hai pregato e quindi senti che nel cuore sei sereno sei in pace non hai dubbi aspetta o un'altra cosa grave è la precipitazione questa è una cosa che si impara con gli anni allora la precipitazione mentre cioè è la risposta immediata allora oggi nel tempo dove qui faccio un pochino di esempi ricevi un messaggio sms sgradevole o un whatsapp come si dice oggi per chi usa whatsapp che applicazione vabbè applicazione commerciale ma c'è di molto meglio in giro messaggio telegram allora chi mi conosce sa bene così lo ricordo anche followers ogni tanto continuano a scrivermi gli sms sul mio sito c'è scritto che io non rispondo a messaggi e continuano a non farlo d'accordo se non le mail che le mail possono essere ponderate vagliate io questa è una cosa che ho imparato dopo aver visto i danni che produce il bot è risposta che si può creare con la messaggistica che è pericolosissimo la precipitazione fa solo che danni in considerazione cioè se anche tu cosa che non accade quasi mai nella risposta immediata facessi la cosa giusta è puramente un caso calma tempo è come quando sapete ci stanno i post ironici sui social no? prima di aprire la bocca collega il cervello ecco questo è antiprecipitazione aspetta prima di rispondere aspetta pensiamo alle dinamiche di chi sta in una conversazione e interrompe in continuazione non ascolta non lascia finire che fretta c'è aspetta risponde aspetta intervenire quasi sempre quando noi agiamo di impulso stiamo sotto qualche passione agire sotto qualche passione non è mai agire in maniera prudente perché la prudenza domina le passioni ti porta ad agire secondo ragione non secondo passione e noi dobbiamo sempre agire secondo ragione non secondo passione parlare secondo ragione non secondo passione la precipitazione l'arbitro della volontà o l'impedo di una passione muove la precipitazione scrive l'angelico e a voglia di poi ci sono tutte le giustificazioni ah io dico quello che penso ah io pane al pane e vino al vino quindi anche qui c'è un difetto vedete vedete come la nostra volontà umana è terrificante un difetto perché noi quando facciamo una cosa ricordatelo questo qui nessun essere umano quando fa una cosa che è sbagliata deve autogiustificarsela altrimenti non la farebbe a meno che una persona non è un demone incarnato non andrebbe mai a fare una cosa cioè nella cioè tu ti dico guarda che la cosa che tu stai per fare è male sì lo so ma la faccio difficile che ci sia questa cosa qui molto difficile generalmente la persona non pensa che quella cosa sia male perché si è creata una impalcatura una serie di giustificazioni al suo operato preventive concomitanti o successive tali che gli tacitano come si dice la coscienza che però se ben formata non è mai completamente tacitata perché poi continua a rimordere o a suonare la campanella anche se uno può non sentirla allora via le pseudo giustificazioni ah io io dico quello che penso quindi sparo dico peccato che c'è un proverbio popolar cristiano che dice che il saggio pensa quello che dice saggio prudente sapete che come dire vocabolario contiguo diciamo così adiacente invece lo stupido dice quello che pensa quindi non è che ah io sono coerente vanno a fare ma tu sei stupido perché a parte il fatto che non sempre quello che pensiamo è vero ma quello che pensi tutto lo tieni per te ordinariamente poi pondererai cosa tirare fuori cosa dire come dirlo a chi dirlo quando dirlo facciamo facciamo qualche altro esempio la riservatezza è una cosa che va tutelata se una persona ti fa una domanda diretta e personale tu non devi affatto rispondere ne devi farti mettere con le spalle al muro tu devi dire perché mi chiedi questa cosa punto interrogativo se fosse necessario scusa ma questa è una domanda di tipo personale sai che le domande di tipo personale non è mai opportuno farle non è neanche questo forse non si può troppo dire però non è una cosa educata tu non ti puoi andare a intrufolare dentro la vita privata di una persona se io ti dico una cosa mia volontariamente liberamente te la prendi ma tu non te la puoi venire a prendere o a metterci le mani addosso capite ah ma se io se io non faccio questo manco la carità non manca nessuna carità dirai certe cose con d'accordo con 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 dolcezza a tempo opportuno magari delle volte le farai semplicità una volta lo fai notare ti fanno una domanda diretta non rispondi fai finta di non aver sentito d'accordo cambi discorso ci sono tanti modi per ma tu non puoi entrare in questa in questa logica in questa dinamica perché è distruttiva se poi la persona insiste allora glielo spieghi mi conosce per esempio sa che domande personali non si fanno se tu mi contatti vuoi sapere un consiglio su un problema vuoi sapere una questione di fede di morale a disposizione ma tu tu che pensi su questa cosa o tu che faresti è un altro discorso d'accordo? la precipitazione è l'inconsiderazione l'essere sconsiderati poi ci sta l'incostanza cioè la virtù della prudenza richiede una certa coerenza se io una cosa l'ho deliberata e giudicata come buona è da farsi poi non posso tornare indietro a meno che non ci siano circostanze ed elementi che richiedano una valutazione ulteriore e che cambiando la fattispecie in oggetto richiedano veramente un passo indietro altrimenti no quindi se io ho ponderato che questa è una cosa da farsi porto avanti questa scelta con costanza nonostante gli ostacoli nonostante le critiche nonostante le cose che da questo non possono derivare l'incostanza è una debolezza sempre in questo caso in particolare per ciò che attiene alle scelte prudenziali si tratta di debolezza della ragione invece poi c'è la negligenza la negligenza spiega San Tommaso è un rilassamento della volontà negligente in latino significa non elegente cioè che non sceglie e questo causa la mancanza della dovuta velocità nel comandare di compiere gli atti doverosi oppure il modo giusto di compiere San Tommaso dice che se questa ricade su cose necessarie alla salvezza la negligenza è un peccato mortale pensiamo per esattamente la negligenza nelle cose di Dio allora ha voglia a dire ah questa cosa ma io non lo sapevo tu non lo sapevi sì ma hai usato i mezzi per fare in modo che il non lo sapevo sia io ci ho provato a informarmi ma veramente questa cosa non l'ho trovata da nessuna parte sei sicuro? trascurare le cose necessarie alla nostra salvezza cioè è l'imprudenza per antonomasia cioè perché l'imprudenza per antonomasia? perché cioè che campi a fare tu io che cosa campiamo a fare? che ci stiamo a fare sul pianeta Terra? ci credi che siamo stati creati per il cielo se ci credi che siamo stati creati per il cielo tu devi come dire organizzare la tua vita in maniera tale che la prima salvaguardia continua che ci sia sia appunto andare in cielo e per andare in cielo non devi trascurare le cose necessarie alla salvezza ma le devi curare non puoi non pregare mai non puoi stare a lungo senza sacramenti non puoi oggi come oggi limitare la tua vita cristiana alla messa quando mi ricordo per tradizione e rimanere al catechismo della prima comunione della cresima è impossibile perché se fai questo è quasi impossibile che tu riesca a orientarti in questo marasma che ci circonda no? pensate cioè poi che cosa succede quando arrivano i momenti critici le prove lì esce proprio fuori quello che c'è nel cuore delle persone e quello che c'è dietro ora non vorrei adesso ecco passiamo all'ultima parte che sono i vizi opposti alla prudenza che però le assomigliano li elenco e poi li spieghiamo e così concludiamo questa nostra disamina allora uno è la prudenza della carne la seconda è l'astuzia il terzo è l'inganno poi la frode e poi la sollecitudine attenzione nei beni temporali o riguardo il futuro la prudenza della carne la prudenza della carne che cosa è? è applicare la prudenza al raggiungimento dei beni del corpo o come fine ultimo e quando questo accade cioè chi vive per chi cerca i mezzi per soddisfare tutti quanti i bisogni del corpo lecito e illeciti quasi sempre cade in peccato mortale oppure c'è comunque un'industria nel cercare la loro soddisfazione oltre il dovuto pur senza peccare mortalmente classico esempio da scuola mangio non perché è necessario nutrirmi ma per il piacere del cibo e quindi questo perché mi piace e quindi più del necessario capiamo no? cioè per soddisfare come dire i desideri carnali tu ci devi pensare pensiamo anche come dire alle forme estreme di queste cose no? a chi si dà ai piaceri depravati che scogita no? quindi studia pensa forme sempre più trasgressive sempre più estreme di soddisfazione cioè fare questo richiede un'attività intellettuale no? quindi io ho questo fine con quali mezzi che facciamo come faccio a raggiungerlo è un'operazione analoga a quello che la prudenza fa non evidentemente in vista di questo fine ma in vista del fine proprio dell'uomo che è appunto la vita eterna no? ho l'astuzia poi c'è l'astuzia Gesù nel Vangelo che cosa ha detto? siate prudenti certe traduzioni hanno astuti come serpenti e semplici come le colombe ora però l'astuzia che cosa fa? stravolge i mezzi perché per raggiungere il fine non importa al momento se buono o cattivo usa vie cattive la simulazione soprattutto l'ipocrisia o la falsità classici esempi l'astuzia no? se vogliamo stare al Vangelo le domande che facevano a Gesù le domande tendenziose no? senti un po' giovanotto il Vangelo di San Giovanni il battesimo di San Giovanni in Battista da chi veniva? dagli uomini o da Dio? senti un po' chiaro rabbì tu insegni sempre senza guardare in faccia a nessuno allora dici un po' ma dobbiamo pagarlo sto tributo a Cesare sì o no? cos'erano queste? astuzie il nostro signore non attaccano ma erano astuzie erano trappole perché? perché dalla risposta se Gesù avesse risposto in maniera esplicita vedete perché delle volte non bisogna rispondere oppure rispondere in maniera intelligente cosa ha risposto Gesù? sul Vangelo di San Giovanni in Battista dice prima di rispondere faccio anche io una domanda con quale autorità gli chiesero tu fai queste cose no? e lui ha ribattuto ma il battesimo di San Giovanni in Battista da chi veniva? da Dio o dagli uomini? gli era ribattuto lui a loro e questi hanno cominciato a pensare se diciamo da Dio dirà perché non ci abbiamo creduto se diciamo dagli uomini qua ce l'apidano perché tutti pensano che San Giovanni in Battista addirittura pensavano che fosse il Messia San Giovanni in Battista ha dovuto fare una operazione di convincimento io non sono il Cristo io non sono il Cristo io non sono allora dice senti guarda che noi non lo sappiamo a voi non lo sapete e manco io vi dico con quale autorità faccio queste cose silenzio tutti ho quell'altra domanda no? paghiamo il tributo a Cesare? la legge su come era prudente intelligente se risponde di sì che cosa fanno? vanno tutti quanti gli israeliti quello sarebbe il maestro ha capito il maestro qui abbiamo una situazione di ingiustizia palese un popolo che ci opprime a quei tempi il tributo non è come oggi per questo non si possono poi traslare le parole di Gesù perché oggi le tasse le pagano tutti ma a quei tempi il tributo era un segno di soggezione quindi i tributi li pagavano i popoli soggetti all'invasore quindi all'autorità proprio come segno della loro sottomissione cioè siccome io ti domino tu mi dai i tuoi soldi una parte i cittadini ormai non pagavano le tasse all'impero se risponde no non lo paghiamo figurati il giorno dopo andavano dal procuratore gliel'hanno anche detto una volta del processo non paga i tributi al Cesare sapete che la condanna di Gesù nel processo la condanna formale era scritta in ri il capo di imputazione con cui hanno ottenuto la condanna a morte da un punto di vista formale giuridico lì c'era un imputato che dovevi condannare a morte sulla base di cosa per quanto riguarda il diritto romano perché aveva detto che costruisci il tempio in tre giorni ma sa che gliene importa il procuratore romano doveva trovare un capo di imputazione che legittimasse la pena di morte e quale era il delitto di lesa maestra si fa re e quindi non riconosce o cerca di usurpare l'autorità di Cesare tutti i procedimenti astuzie ordite o poi l'inganno l'inganno è satanico l'inganno tende a trarre il prossimo nell'errore quindi portandolo verso i propri fini senza che se ne accorga satana che è il più astuto il più intelligente è un maestro in queste cose attenzione maestro abbastanza competente diciamo così non tessiamo troppo le lodi del diavolo insomma che è sempre da disprezzare e mai da lodare no? l'inganno è una cosa terribile ma anche l'inganno presenta una serie di attività mentali di impalcatura attigue a quello che l'esercizio della virtù e della prudenza richiede elaborare una strategia un piano per mentre l'inganno però si perpetra fondamentalmente con parole pensiamo all'inganno primordiale insomma quello che ha causato il peccato originale lì è stato un dialogo poi c'è la frode spiega sempre l'angelico la frode è sempre un inganno perché la frode richiederà giri ma questa volta ha compiuto non prevalentemente tramite le parole ma tramite le opere un'altra cosa forse questa si coglie meglio la attitudine con la prudezza è la sollecitudine per i beni temporali e per il futuro oh questo è proprio argomento di strettissima attualità cosa cioè capiamo che cos'è no? allora metti i soldi in banca da parte perché non si sa e dopo nel futuro che facciamo nel futuro che facciamo faccio questa cosa perché devo mettere comunque al riparo il futuro oppure il gruzzoletto che d'accordo perché dopo che succede dopo che succede dopo che succede dopo il secondo figlio basta perché insomma due ce li possiamo tenere più o meno facciamo un po' dei conti ci mettiamo seduti ma già il terzo è sollecitudine per i beni temporali cosa ha detto Gesù nel Vangelo ma chi lo mette in pratica questo qui non preoccupatevi della vostra vita che cosa mangeremo che cosa verremo e che cosa vestiremo qui San Tommaso dice dicendo questo ha condannato la sollecitudine per i beni temporali non la dobbiamo avere la sollecitudine è chiaro che tutti dobbiamo lavorare chi non vuole lavorare neppure mangia attenzione però un conto è dover lavorare in condizioni normali quindi non astenersi mai dal lavoro per ragioni di ozio perché non è che io siccome non ho la sollecitudine dei beni temporali non lavoro perché il lavoro è volontà di Dio perché è stato combinato da Damo come conseguenza della colpa e San Paolo scrive nel Nuovo Testamento chi non vuole lavorare neppure mangi ma attenzione se io non posso lavorare per cause indipendenti dalla mia volontà che cosa devo fare non preoccupatevi della vostra vita perché il Signore provvederà sei capace di credere questo punto interrogativo e c'è anche la sollecitudine per il futuro noi non ci preoccupiamo del futuro temporale noi ci preoccupiamo del futuro eterno di quello sì non del futuro temporale non affannatevi per il domani a ciascun giorno basta la sua pena dice Gesù sempre nel Vangelo allora qui evidente no? perché la prudenza cerca i mezzi per raggiungere un fine buono allora questa è prudenza umana la sollecitudine per i beni temporali si può chiamare anche prudenza umana quindi se mi dovesse prendere il coccolone se mi dovesse prendere meglio che ho un po' di soldi da parte no? perché se mi prende almeno sto sicuro attenzione si capisca bene quello che sto dicendo non è che uno ha un po' di soldi da parte deve necessariamente vendersi tutto e vivere in stato di come dire di totale affidamento integrale al top nella provvidenza come San Francesco è un fatto profondo è un fatto di cuore è un fatto profondo è un fatto di cuore cioè tu devi chiederti se io e tu dobbiamo chiederci se questa cosa è perseguita in maniera come dire ossessiva in maniera esagerata in maniera unilaterale con totale trascuratezza del del resto la prudenza soprannaturale non ragiona così ragiona sulla base di altri criteri d'accordo se io non posso lavorare il Signore mi aiuterà se io non potendo lavorare non lavoro per negligenza o per cattiva volontà e il Signore certamente non mi aiuterà questa è la prudenza che viene dal cielo ecco con questo abbiamo quindi qui si tratta la solicitudine per i beni temporali per esempio è peccato quando è eccessiva d'accordo perché lì si parla di sollecitudine non il fatto che comunque è chiaro che noi dobbiamo occuparci anche di queste cose no così come la seconda è peccaminosa quindi quando anticipa senza motivo la preoccupazione del futuro sapeste quante volte io devo dire alle persone alt allora se dovesse succedere questo dovesse succedere quest'altro dico come dice il proverbio popolare per fasciarti la testa prima di romperla aspettiamo quando si verificheranno i problemi li affronteremo per ora noi dobbiamo occuparci dell'oggi perché se no sta a pensare quello che succede domani tu l'oggi non lo vivi e questo Dio non lo vuole non lo vuole anche la smagne diciamo di voler conoscere il futuro pensiamo alle persone che stanno troppo dietro al mondo delle profezie o cose di questo genere io non sono un miscredente nel senso che ho uno scettico a priori io non rispetto ovviamente le opinioni di tutti ma quando c'è come dire un atteggiamento di scetticismo generalizzato verso ogni forma soprannaturale non mi sento di condividerlo però nel senso che se il Signore nel corso della storia sceglie di servirsi di alcuni strumenti per ammonirci allertarci avvisarci su tante questioni quelli devono essere accolti si deve certamente fare un discernimento ma vanno accolti però anche qui in maniera equilibrata non eccessiva non puoi tutto il giorno a pensare alla profezia X e Y quando succederà questo evento quando succederà quando verranno i tre giorni di buio una delle cose famose perché a suo tempo ne parlò Padre Lio pure su Radio Maria non c'è pensare ti è arrivata questa informazione sì ci credi sì che cosa devi fare in modo che dentro c'è le candele benedette se ti vuoi e basta e non è che basta tu ti preoccupi di questa cosa sanamente come vivi in grazia e persevera nella preghiera punto quando arriveranno arriveranno queste cose qui l'importante è che tu sia in grado di affrontarle quindi non pensare stancandoti in continuazione al futuro che tu vuoi sapere con la sbaglia di quando accadrà se come dove perché anche perché molte di queste cose sono sempre condizionate nel senso che se le persone se gli uomini dovessero pregare abbastanza fare penitenza abbastanza convertirsi non è detto che una profezia di per sé autentica si compia esattamente in maniera letterale noi questo non lo possiamo sapere se è una cosa come dire se il Signore sta riferando una cosa che certamente accadrà quindi è quello che si chiama in teologia un contingente necessario oppure un contingente possibile cioè quella cosa accadrà a meno che non ci siano questi antecedenti e non succedano queste cose non ci siano queste reazioni da parte di chi ha conosciuto questa cosa quindi la conoscenza di quella cosa non è finalizzata a farti conoscere in anticipo ciò che accadrà ma a farti conoscere ciò che potrebbe accadere in modo da ecco i tuoi buoni comportamenti in modo che questo non accada quindi non so ecco adesso io mi fermo spero che queste sollecitazioni facciano riflettere un pochino guardate che questo punto è un punto capitale perché se non impariamo a far funzionare bene il cervello attraverso questa virtù tante cose nella vita diventano complicate o più complicate a volte molto complicate ecco quindi buon esercizio della virtù della cardinale della prudenza a tutti abbiamo finito ampiamente il tempo a disposizione appuntamento alla prossima settimana e che Dio vi benedica e la Madonna sempre vi protege a tutti a tutti a tutti